Andiamo sul naso parinceo, che tanto è aperto, e in modo che ci stiamo tanto a gire intorno, anche qui. Vediamo, lubrificante gel. Mettiamo sotto qualcosa. Allora, come si applica al naso parinceo? Ok. O tutti abbiamo una narice o più grande o più piccola. Adesso. Ecco qua. Allora, questo qui non è un osofaringe che si può settare, o meglio, non ha un fine corsa. Almeno apparentemente sembra non averlo. No, normalmente hanno un ring che si muove e si può fare il setting del naso parinceo. Il naso parinceo si setta dal naso fino all'angolo della mandibola, quindi tendenzialmente in questo modo. Ok? In questo caso, qui. Ok? Quindi il fine corsa dovrebbe essere più o meno qui dove c'è il simboletto. Ok? Dopodiché, prendi... Allora, vediamo se prendo il simboletto. Ok. Lo prendete, lo inserite verticalmente, lo spingete verso sopra, lo verticalizzate, a quel punto lì trovo al buco e cominciate ad entrare. Lo dovete ruotare leggermente. E effettivamente il fine corsa è qua. Ok?